Allora guarda, un cofanetto con delle gemme preziose. Rubino, smeraldo, giada, chi più ne ha più ne metta. Ti piacciono le gemme? Certo. Come tutte le donne. Senti una cosa, scegli ne una, quella che ti piace di più. Il rosso rubino. Prendilo, prendilo. Ok? Sì. Il rosso rubino. C'è un motivo particolare perché hai scelto il rosso? Perché il mio colore è preferito. Come i capelli? Certo. Guarda, io ti ho detto che ho fatto una previsione e se apro questo cassetto, infatti, c'è proprio la tua stessa identica gemma. Quella rossa. Incredibile! Poi ho preso una gemma, ma qui avevo una previsione. Esattamente la stessa gemma tua. Sì, proprio quella.